Erano stati installati nemmeno una settimana fa, dopo il grave incidente che aveva visto coinvolte due ragazzine di 12 anni travolte sulle strisce pedonali all'uscita dalla scuola a Marciano della Chiana, ma adesso i velocity box sono già finiti nel mirino dei vandali che li hanno imbrattati con della vernice rossa. È successo nella frazione di Cesa. A condannare il gesto tramite social il consigliere comunale di Marciano della Chiana, Nicola Gentile. È una settimana che mi sto battendo per la sicurezza delle nostre strade e di certo non è questo il ringraziamento che speravo ha scritto sulla sua pagina Facebook. Possono piacere o non piacere, ma sicuramente conclude e contribuiscono a diminuire i pericoli. Sono in tutto sei autovelox installati nel territorio comunale di Marciano della Chiana dopo l'investimento, alcuni di questi proprio lungo la provinciale 25 nel tratto che prende il nome di via di Castiglioni e che collega Cesa a Lucignano, una strada molto frequentata ed altrettanto pericolosa, come avevano denunciato i residenti dopo il grave incidente. Le macchine viaggiano a tutta Randa. Questa è pericolosa.